Abbiamo progettato la postazione Fellow Assistant Lotus con un solo pensiero, creare un supporto così facile da usare, piacevole ed integrato, da sostituire completamente la tua scrivania. Lotus arriva già assemblata, non ci sono istruzioni complicate, devi solo piazzarla sulla tua scrivania, raccogliere i cavi nel comodo sistema ordina cavi e sei pronto a lavorare in modo attivo. Con la tecnologia Smooth Lift di Lotus alternare il lavoro in piedi a quello seduto è semplice. Ruotando la manopola la postazione diventa leggera e facile da sollevare e posizionare. Ci sono 22 livelli di regolazione di altezza, tra i quali c'è sicuramente quello perfetto per te. Lotus comprende due spaziose piattaforme adatte a contenere ogni accessorio che ti serve, è anche possibile acquistare a parte un braccio monitor singolo o doppio per ottenere il massimo dal tuo spazio di lavoro. Prendi posizione contro il lavoro sedentario grazie a Fellos Lotus, la più comoda e semplice postazione di lavoro sit-stand. Lavora bene, vivi meglio!